Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Con sotto in descrizione, al sito www.inascere.net, trovi vari percorsi di miglioramento creato per voi, scegli quello che fa per te. Come far capire una ragazza che ci piace senza dirlo direttamente? Vi dirò la verità, le ragazze sono avidissime nel capirlo. A loro basta vedere una piccola attenzione in più rispetto al rapporto che ha con una persona loro conoscente, che non ha interessi per loro appunto, per accorgersene. So che sembra un loop perché ho detto una persona che non è interessata, però devono sapere che è interessata, insomma avete capito, ma come fanno a capirlo? L'ho detto tra le righe, quando una persona dimostra un pizzico in più di attenzioni per quella ragazza, magari reiterate, magari in circostanze nelle quali le persone che sono loro conoscenti ma niente di più, abbandonano, loro insistono, stanno lì, come se volessero dare attenzione, volessero apportare qualche cosa, aiuto, compagnia, un sorriso, insomma tutte quelle cose che fanno sì che la ragazza possa dare indietro a loro. Mi spiego peggio. Se un ragazzo insiste, quindi scrive più del dovuto, più di quello che è accettabile da un conoscente, sta fermo lì con la ragazza, magari cercare di trafuori argomenti per forza, perché vuole parlare con lei, cerca la scusa per toccarla, in senso, insomma, easy all'inizio, la invita fuori, la guarda spesso, le sorride, si interessa alla sua vita, insomma tutte queste cose sono palesi segnali di interesse che possono essere attenzioni all'inizio se separate, ma se unite da un discorso temporale o reiterate più volte, anche più di queste, nello stesso momento con la stessa ragazza, lei cosa farà? Unirà i puntini e dirà cavolo ma tutta questa attenzione non è normale perché il mio panettiere non mi dà questa attenzione, mentre una persona che parla con me e che non è mia amica o mio amico e mi conosce e va avanti, tende a buttare ancora, ancora a dare di più per allungare il brodo, a stare lì, perché lo fa? o soffre solitudine e mi vuole lì, oppure cerca di attirare l'attenzione, cerca di darmi di più affinché io gli rimando, dia a lui di più, stia lì, o vuole farmi vedere, dimostrarmi qualche cosa. Tutte queste cose le fanno capire inequivocabilmente che siete cotti. Queste però sono cose che spesso sono sbagliate perché il dare di più in qualsiasi circostanza, dare un'eccessiva occhiata, più parole, eccessivo tocco, eccessive attenzioni, eccessive richieste di vedersi, eccetera, sono ovviamente cose che alla lunga la possono annoiare e le fanno capire, anche se non dite con le parole, che siete cotti ed è sbagliato perché eccedete nell'altro senso. Quindi lei già l'ha capito appena scavallate la cosa che fanno i conoscenti, appena date un po' di più, lei già ha capito. Quindi non dovete andare oltre e cedere perché altrimenti è come dichiararsi e siamo appunto a capo. Ma se voleste semplicemente farle capire che siete interessati, basta veramente un pochettino in più. Quindi non date cento, ma date uno in più. Un'attenzione in più, un sorriso in più, magari un complimento studiato, mi raccomando, l'ho spiegato spesso, in più. O semplicemente il verbalizzare ciò che pensate, nel senso mi sembri interessante, mi fai ridere, cioè buttare anche la cosa su di voi, sul fatto che lei fa qualcosa, crea qualcosa in voi, muove qualche cosa, smuove qualche cosa. Queste cose non sono cose che dice una persona qualunque, un conoscente a lei, ma dice quello che qualcosina su di lei ha pensato, qualche intenzione se l'è fatta, qualche curiosità o un bellissimo interesse inizia a esserci. Quindi se fate questo e fate vedere queste piccole cose, le ragazze che hanno una sensibilità molto alta e se ne accorgono banalmente, lo capirà. Quindi qui il punto non è tanto cosa fare per farglielo capire, perché siete bravissimi e loro lo capiscono in fretta, ma è essere in bilico tra il non ti dico niente e il ti dico troppo, cioè sto a metà, il mando qualche cosa ma poi magari mi ritraggo. Così genero anche in lei la curiosità di dire ma questo ci sta provando o no, è interessato o no, perché alcuni segnali mi dicono di sì, altri il contrario, devo indagare e la sua attenzione si alzerà. Quindi comincerà ad acutizzare tutti i suoi sensi per cercare di capire meglio queste informazioni. Poi starà anche a voi magari scavallare ancora un pochino in più per darle la stoccata finale, quindi per farle dire ok questo qua ci sta provando, però ancora non siete dichiarati, ancora non avete fatto niente di eclatante per lei e intanto comunque lei, se queste cose le avete fatte correttamente, si sente un attimo lusingata, se le avete fatte, ripeto, correttamente, starà magari attenta a recepirle, magari ne scambierà qualcuno indietro a voi, insomma si parte da pochino a pochino e poi quando diciamo che si mettono le carte in tavola da lì comincia la vera seduzione. Questo è quanto, vi ricordo come sempre che è qui sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovate vari percorsi di miglioramento operato per voi, scegliete quello che fa per voi. Ci vediamo in un prossimo video.